Ciao ragazzi Grazie di essere qui, qui, qui con me oggi Il topping su questa tazza è bellissimo Oggi per me è mattina, però per voi saranno di sera, per me è domenica mattina Voglio registrare un Get Ready With Me, un po' aggiornamento Ho un pochino di novità Nella mia vita voglio parlarvene un pochino, per quel che posso Giusto anche per spiegarvi un po' di cose E volevo anche fare un video proprio Get Ready With Me, trucco di tutti i giorni Un trucco proprio semplice, semplice Devo ancora fare la mia skin care, quindi la facciamo insieme Per detergermi il viso ho già usato questa Questa è una mousse detergente di uvi E ogni tanto loro mi impiano delle cosine Da qui esce la mousse, ed è la mousse che avete visto nel video di skin care che è uscito Verdi, lo scorso video E in realtà fa molta più schiuma di quando avete visto nel video Perché non avevo la pelle tanto bagnata, quindi però fa una bella schiuma Mi sono trovata molto bene, l'ho quasi finito In generale però io adoro, adoro, adoro i detergenti in mousse Amo tantissimo quella dell'Hellobody Poi vorrei troppo provare quello di, come si chiama? Bottega in toscana, non mi ricordo Aiuto, comunque Quella marca lì, quella di Alchemilla Ne ho vista una di Cosmify Ce ne sono tante, mi trovo veramente benissima con questi detergenti in mousse Perché sono morbidi, morbidi, morbidi Questo sa un pochino di frutti di bosco In realtà di camomilla dovrebbe sapere Però vabbè Comunque ha un odore molto blando Quella dell'Hellobody Si è un odore molto forte Di yogurt al cocco Dipende un po' Che adoro Quindi anche tonico mi sono messo Partiamo subito dalle Contorno occhi Se avete dei detergenti in mousse Da consigliarmi Che conoscete Ditemelo Non ho bisogno di detergenti in questo momento Ma me li insegnerò Perché veramente È la formulazione che più mi piace Però guardate che io la pelle è secca Ad esempio ho visto quelli dell'Alchemilla Che sono proprio pelle grasse Il contorno occhi Sempre di È la di Hellobody Della linea Caracare E È un contorno occhi Illuminante Eccoci qua Si assorbe molto in fretta Ne basta poco Mi ci trovo abbastanza bene E adesso passiamo Alla prima Al burro cacao Quasi finito Quasi finito È l'Alchemilla Vediamo se riusco Eccoci qua Perdonate davvero le mie unghie Orlite Mi farò dimostrarvele Ed è la Dolcilabbra Nocciotella È uno dei miei burro cacao preferiti in assoluto Si spalma bene Perché alcuni sono corposi Ma Sono molto Grasse Non vi che sono grasse Però sono Troppo Troppo poco Burrosi E quindi Quando le labbra leggermente bagnate Tipo dopo Esserminavate il viso Non si attaccano Scivolano sopra le labbra E Questo video sarà fatto Con molta molta calma Ve lo dico già Perché oggi domenica E dovrebbe essere il mio giorno libero Permette però Almeno Voglio fare un video con calma E rilassante anche per me Perché mi piace comunque Molto Molto Allora Quindi passiamo al Siero Il Siero Siero e crema Sto usando Quelli di Charlotte Del Purim Faccio vedere Questi qui Questo è il magic serum Tra l'altro Ne ho già usato un quinto Il pack è stupendo Stupendo Elicantissimo Veramente Ne metto Quattro gocce Ne metto Quattro gocce Allora Diciamo che Non so se vale I suoi soldi La mia pelle Ultimamente È migliorata È diretta È chiaro È un proforazzo Qui Sì Ma Primerò Piena 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 Di piccoli profili Tutti qui Dove c'era la mascherina Adesso Se non altro No Cioè non Così come prima E la indosso Anche di più Quindi Abbastanza migliorata La cosa che più mi piace Di questi prodotti È che Si sente Che costano un po' di più Non è una cosa fondamentale Voglio dire però Forse è una cosa psicologica Però Si sente che Penetrano nella pelle meglio E È proprio La texture Anche che è Più piacevole E voglio dire L'effetto Fondamentalmente Un sirore ingiovanente L'effetto Non so se sia Migliore O peggiore Perché poi Dovrei finirlo Almeno Per saperlo Però In generale È proprio Il feeling Del momento In cui te lo metti Molto bello E poi vado a usare L'ilacry magic Cream Questa è quella Tra le due Più idratante Io l'ho presa Prima che uscisse Quella più leggera E come vedete Ne metto Veramente Veramente Poco I bag sono Bello Voglio tenere Voglio metterci Qualcos'altro Dentro Ho tipo anche Degli orecchini Cosa faccio vedere Questa è molto Corposa Certo Non ho tanto Le pelli Grasse Non so Non so Mi piace molto Poi c'è uno step Che mi sono scordata Di portare qui Però Quando Adesso ogni giorno Ho preso L'abitudine Che quando Metto La crema Giorno Metto anche Proprio Un bump Niente Pochissimo Di crema Solare Quindi la mischio Alla crema Da giorno Questo perché Ho deciso che Anche se è autunno Inverno Voglio mettere La crema solare Tutti i giorni Perché Ho paura Che la mia pelle Invecchi Diciamo Anche un po' Per colpa Troppo prima Anche un po' Per colpa mia Quindi E poi Per protezione Insomma Per salute Mi sembra giusto Non è uno sforzo Così assoluto Io uso Quella Di arancione La trovate in farmacia Passiamo finalmente Al make up Dopo 20 minuti Che sto registrando La prima cosa Che faccio E' Prendere Il Correttore Io uso Questo Della revolution Nella colorazione G8 Cominciamo Un attimo Con gli aggiornamenti Cominciamo Un attimo Con gli aggiornamenti Allora Il primo grande Aggiornamento Ed è quello Che fondamentalmente Ci teneva a dirvi Era indecisa Se dirlo No Perché Scusate Quello Specchio Perché Voglio tenere Separate Le due cose Ma Giusto per informarvi Non scenderò Nei dettagli Ho iniziato A insegnare Sono stata Chiamata Per una supplenza Non di tutto L'anno Ovviamente Questa cosa Porta al fatto Che ovviamente Abbiamo molto Meno tempo Per il canale Abbiamo molto Meno tempo Per il canale Ovviamente Io non ho Intenzione Di saltare Un video Farò Due video La settimana Questa cosa Veramente Ci tengo Enormemente Enormemente Non ne avete idea E farò Il mio meglio Davvero Per portarvi Contenuti Di qualità Come prima Cioè Ci tengo Da matti A questo canale E Veramente L'unica cosa Sto cercando Il correttore Per il viso Scusate L'unica cosa Che un po' Per me Come persona Mi dispiace Il fatto che Non ho fondamentalmente Più Momenti liberi Perché Di pomeriggio Studio Preparo le lezioni Metto avanti Ho varie cose Della scuola Di mattina Su una scuola Il mio giorno libero E Devo dedicarlo Al canale Voglio Dedicarlo Al canale Non che io Debba fare Tante cose Perché Voglio dire Non ci sono Molte opzioni In giro Però In generale Insomma È un po' Così Devo ancora Prenderci In giro Sono molto Stanca Molte volte E devo Ancora un attimo Sì Abituarmi Al tutto Perché È da poco Da una settimana Questa cosa Non vi voglio dire Di più Perché Penso sia una cosa Privata Penso sia Assolutamente giusto Doveroso Tenere le tue cose Separate I tuoi lavori Separati Però è giusto Per dirvi Che se Non risponderò Magari Non metterò il cuore A tutti 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 I commenti Come prima O Faccio meno storie O rispondo meno In direct Che Mi richiede Tantissimo tempo È per questo Io davvero Faccio Il massimo Che posso Il massimo Davvero Passiamo poi Alle sopracciglia Per le sopracciglia Uso Lo scovolino Del Glambrow Si chiamava Poi È tutto cancellato Di Benefit Che è ormai finito E uso Il gel Di We Make Up Dare Brow Gel Ne prendo Pochissimo Perché a me Piaciono Le sopracciglie Naturali Giusto Per pettinarmele E vado Veramente Io ho Ciò che faccio E tirarmele su Non le riempio Sapete che Con le sopracciglie Non sono mai stata Brava In generale Però Non vi do neanche bene Adesso Onestamente Però Facciamo che va bene Così Me le farei Leggermente Meglio Se avessi Lo specchio Vicino Ma va bene Così Quindi Fondamentalmente Questo trucco È il trucco Che mi faccio Di giorni Di mattina Quindi Molto veloce Poi Come Eyeliner O matita Io Alterno Il Deep Love Di Clio Con cui mi trovo Benissimo E la Only Eye Pencil Di We Makeup Nel colore 06 Ruby Grape Anche questo Mi ci trovo Benissimo È un borgogno Stupendo Finaccia Ed è veramente Meraviglioso Super Facile da mettere Non stava Meraviglioso Veramente Ma oggi Vado a mettermi L'eyeliner Perdonate La liner Rosceno Ma Non mi vedo Molto bene Qui In questo Specchio Quindi È ciò che Sono riuscita A fare Comunque Di solito Lo faccio Leggermente Meglio Dipende La mattina Come mascara Vado a usare Il Quello di Paranah Beauty Il Volume Up Io Entrambi Mascara di Paranah Beauty Che ho Che si chiamano No Limits Volume Up Mi ci trovo Ma Bene Ma di un bene Ma di un bene Allora Diciamo che Oltre a questa novità Che è una novità Che ha impattato La mia vita L'altra È che Fra pochissimo Ci trasferiremo Probabilmente Proprio Fra un paio di settimane E non vedo l'ora Perché nella nuova casa Abbiamo il camino Che sarei col camino Non vedo veramente l'ora E Vabbè Che quello Messo Alla cavola Però E più a più Anche La cucina Grossa Insomma Metteremo le cose Come davvero Le vogliamo Mettere Non un po' Diciamo Qui ci siamo un po' Accontentati Dove siamo ora Perché Sapevamo di restarci Solo per l'estate Quindi sì Questa cosa Sono veramente felice Perché Non vedo l'ora Di mostrare Anche qualcosina Della casa Non appena L'avremo un attimo Arredata Probabilmente si parla Di gennaio Spero prima Ma Dubito Non so se vi farò Una ostura Effettivo Perché Non ci vivo solo io In quella casa Quindi è giusto Che il mio fidanzato Sia comunque D'accordo Perché anche Casa sua Capite Però In generale Magari Vi farò vedere D'otre cose La cucina Il salotto Adesso vediamo Come blush Vado a usare La senza titolo Numero 3 Di Richiova Sempre questa Sempre quella Che mi vedete usare Che sta qui Questo E io come blush Questo è un po' Leggermente Troppo rosa Per me Quindi mischio Il blush Con la terra Tolgo le zesse E vado sulle guanze Non so se l'ho già detto Però Ho anche una cucina Molto più grande Non vedo l'ora E' vero Ufficialmente la mia cucina Una cucina ufficiale E Poi Per chi non avesse Il video di presentazione Non avesse visto Il video di presentazione Di Ami Abbiamo preso Ami Vedo anche un ottimo L'illuminante Abbiamo preso Ami Ami è una nuova setterina In casa Sveva sta bene Non preoccupate Ami è una nuova setterina Di 5 anni Che abbiamo adottato Vi lascio il video qui Se non l'avete visto E siete curiosi Comunque Stiamo Ami Giusto per chi Vuole essere di ragionamento Mi seguo su Instagram Così E' molto migliorata La confidenza Con Ami Anche di Ami Soprattutto Nei nostri confronti Ieri per la prima volta E' salita sul divano E stamattina per la prima volta E' salita sul letto Vuol dire che Ha veramente Capito che a casa Comunque Ultimo step Vi faccio vedere Le mie Faccio vedere I miei nude preferiti Poi da mettere Oggi Non metto il rossetto Perché Devo ancora fare colazione Però I miei preferiti Sono Cheer Up Di Panna Beauty Bellissimo Lo amo E non si trasferisce Sulla mascherina Vi sto facendo vedere Lo set di liquidi Proprio i motivi Lo 02 Di We Makeup Anche questo Sapete che lo amo Uno dei miei preferiti Poi ho preso Celebrity Skin Di Jeffree Star Che come colore Mi piace Tantissimo Ma come Texture E come effetto Sulle labbra No Perché è troppo secco E E' molto sottile Va a venire molte roguette Non trovo sia la formula Migliore Di rossette liquidi Magari Adesso è cambiata Non saprei E poi Non ho preso Quello di Clio Ma volevo anche farvi Un altro nude Che mi piace molto I nude sandy Di Clio E alterno fondamentalmente Questi Sotto la mascherina Perché poi Lo insegno a distanza Quindi posso togliermelo Quindi oggi Invece vado a usare Il Well Lip Lamp Per esempio Di We Makeup E Metto Giusto un pochino Per ritratare le labbra A volte lo metto Anche su Per il rossetto liquido Se devo Posso ringrazio Un po' Senza mascherina E questo è quanto Adesso mi fatti Molto i miei capelli Vediamo se fa dei suoni Sì Il bag mi piace da matti Comincio un pochino A pizzicare Poco poco Però questo Ho visto Ho visto dei video In cui Recensivano Quelli di Napoli E hanno detto che Pizzica tantissimo Rispetto a questo E non Non ci tengo Non lo so Sarei curiosa Però forse Per me sarebbe Veramente troppo Ok Mi fatti Un attimo i capelli Anche i miei capelli Fanno schifo Bene E Ok Più o meno E nulla Questo è il look Terminato Come vedete È un make up Veramente Semplice Non mi sembri di così Veramente Però È ciò che faccio Ogni mattina Per Diciamo Darmmi un aspetto Un pochino più Sveglio Il minuto Senza Perdere Troppo tempo E Non so se Fa volte No vietato a dirvi Direi di no Non è stato Molto Chiacchiericcio Però va bene Così Io comunque Mi sono rilassata Molto E Di solito Quando Io mi rilasso Particolarmente Nei video Risulta Anche a voi Molto più rilassante L'apprezzate Tantissimo Quindi Spero che Questo video Sia stato Particolarmente Rilassante Per voi Ditemi Perché è arrivato Fin qui Ditemi In dei commenti Se avete Dei suggerimenti Per dei nuovi video Vorrei fare un video Sulla situazione Su come gestire La situazione Ma Farai dei consigli Da voi Bene Io Penso proprio Penso proprio Penso proprio Penso proprio Si è Giunta Allora Abbassare Le luci E augurarmi Augurarti Una buona 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 notte Buona notte Sognito oro Buona notte Buon nuit, i miei pasticcini bellissimi, io vi mando un bacione che l'espera